Se ti stai chiedendo come fare a selezionare una o più celle di Excel con le macro sei nel posto giusto perché in questo video ti farò vedere non uno ma ben due modi con cui puoi fare la stessa identica cosa cioè selezionare delle celle, una cella o un intervallo di celle in Excel per poi farci qualche cosa. Se non mi conosci io sono Marco, sono un esperto di Excel e di automazione con le macro. Se mi conosci beh sono sempre Marco, esperto di Excel e di automazione con le macro. Passiamo subito all'azione e prendiamo il nostro amato Excel e andiamo a vedere il primo metodo con cui puoi selezionare una cella o un intervallo di celle in Excel che è quello di base che Excel stesso ci registra nel momento in cui noi andiamo a registrare una macro. Se non sai che cosa significa registrare una macro ti linko in descrizione il video introduttivo in cui te lo spiego, corri subito a vederlo. Andiamo nella nostra scheda sviluppo, facciamo registra macro, accettiamo il nome che ci propone Excel di base andiamo per esempio a selezionare la cella A1, quindi la prima in alto a sinistra e ci mettiamo un colore blu. Andiamo a selezionare una colonna, un po' di celle, ci mettiamo un altro colore, andiamo a selezionare più colonne, più righe e ci andiamo a mettere un altro colore ancora. Facciamo sviluppo interrompi registrazione qua in alto a sinistra e in questo momento Excel ha finito di registrare quello che noi stiamo facendo e me lo ha scritto nel retrobottega. Come accediamo a retrobottega? Sempre nel video introduttivo te lo faccio vedere. C'è il pulsantone qui, scheda sviluppo, Visual Basic, dalla quale si apre l'interfaccia da sviluppatore di Excel. Qui vediamo che il nostro Excel ha creato questo modulo all'interno del quale è andata a registrare la nostra macro, macro 3. Cosa fa questa macro? Mi seleziona i miei intervalli, vedete, è molto semplice, range a1.select e poi fa qualcosa con l'interno di questa selezione. Nella fattispecie ci va a cambiare il colore, che è quello che noi abbiamo fatto con il mouse e la tastiera. Poi mi va a selezionare l'intervallo c1, c10 e infine mi va a selezionare l'intervallo e1, i10, allo stesso modo. Andiamo a cancellare la parte dei colori che non ci interessa per questo video. Così teniamo il focus su quello che ci interessa. Anche questo range k4, quello che abbiamo fatto alla fine, non ci interessa. Lo lasciamo bianco. Vedete che questo oggetto, range a1, funziona esattamente come funzionano le formule di Excel. Quindi la notazione, indice, diciamo, della colonna in modo letterale e indice di riga in formato numerico, sia nel caso in cui scegliamo una cella sola, sia nel caso in cui scegliamo un intervallo di celle. Sono tra virgolette, quindi queste sono delle stringhe di caratteri. Tutto ciò che è tra virgolette nel codice delle macro, che è il visual basic, è una stringa di caratteri. Se noi andiamo in Excel e facciamo la somma, cosa ho scritto, facciamo la somma di tutta questa roba qui, vedete che c1, c10 è esattamente quello che lui ci ha scritto qua dietro, range c1, c10. Questo è il primo modo per andare ad accedere ad una cella o a un intervallo di celle. Il secondo modo, che è quello che io preferisco perché ci permette molta più libertà in futuro, quando dovremo fare delle cose molto interessanti con le nostre celle e con i nostri intervalli, è quello che utilizza l'oggetto Cells, in inglese, Celle. L'oggetto Cells ci permette di selezionare le celle o gli intervalli attraverso una notazione numerica, indice di riga e indice di colonna. Quindi, per andare a selezionare lo stesso range A1 che abbiamo selezionato in questo modo qui, dobbiamo andare a dire di selezionarmi la cella 1, 1. Chiudiamo la parentesi, Select. Questo è l'equivalente di questo. Indice di riga, indice di colonna, come la battaglia navale, 1, 1. Cosa succede però quando noi vogliamo selezionare un intervallo di celle? Dobbiamo mettere insieme le due cose. Quindi dobbiamo utilizzare l'oggetto Range, che abbiamo visto, all'interno del quale, quando noi apriamo la tonda, l'interfaccia da sviluppatore di Excel ci suggerisce quello che noi ci dobbiamo mettere dentro. Vedete che ci dobbiamo mettere dentro una cella 1 e una cella 2, opzionale, che è tra parentesi quadre. Devo dargli, ho toccato un po' il microfono, devo dargli cella di inizio, cella di fine del mio intervallo. Come glielo posso dare? Nel caso precedente glielo abbiamo dato come una stringa di caratteri, C1, 2.1, C10. Ora glielo diamo utilizzando due oggetti cells. Quindi andiamo a metterci cells, riga 1, colonna 3, perché la colonna C è la terza colonna. Chiudiamo la prima tonda, mettiamo virgola, ci mettiamo di nuovo cells, ci mettiamo riga 10, colonna 3. Chiusa la tonda, chiusa la tonda di Range, punto, select. Questo è l'equivalente di questo. Beh, molto più complicato, direte voi Marco. Sì, è un pochino più lungo da scrivere, però abbiamo dei numeri e non abbiamo più delle stringhe di testo, quindi diventerà molto più facile andare ad intervenire con delle variabili numeriche per ciclare, spostarci tra le nostre celle in funzione di alcuni numeri che noi ci mettiamo dentro. Quindi questa è la notazione che io preferisco per selezionare celle, singole e intervalli di celle. Per questo video è tutto, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti sotto al video e non ti dimenticare di iscriverti al gruppo Facebook dove puoi interagire direttamente con me e iscriverti al canale cliccando sulla campanellina qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video e ricordati che Excel ha sempre ragione. Ciao da Marco.